E' scattata la segnalazione con tanto di esposto la polizia municipale, dopo l'ennesima scena di degrado in via Salvemini, con i cassonetti, gli unici rimasti in città dopo l'estensione della raccolta domiciliare porta a porta, di nuovo stracolmi. Ma non è solo questo. La zona è ormai pressa di mira dagli incivili che ne approfittano per scaricare in quello spazio di tutto e di più. Mini frigoriferi, comodini, cassette della frutta, scatole varie, come se non ci fosse un domani. Se il problema non si risolve faremo qualcosa di eclatante, avvertono i residenti della zona, anche se la creazione di una mini isola ecologica in via Salvemini è stata ostacolata proprio da alcuni abitanti del quartiere. L'attivazione comporterebbe una maggiorazione di costi che i residenti non sarebbero disposti a corrispondere. Per la rimozione dei cassonetti si attende ancora alla conseguente ordinanza degli uffici comunali che tarda ad arrivare, ma prima bisogna risolvere la vicenda sull'attivazione o meno dell'isola ecologica. Certo è che il livello di inciviltà va ben oltre la burocrazia e il tiro e molla in atto. La percentuale di differenziata è salita fino a 72%, ma il buon senso dei cittadini, a giudicare dagli ultimi episodi, non è stato ancora pienamente raggiunto.